salve a tutti stiamo vedendo sulle fotografie che ho messo nel video il sistema triconometrico gps voglio ricordare che noi vittime del controllo neurale satellitare attraverso le sperimentazioni che effettuano su di noi con armi ad energie dirette satellitari attraverso il satellite che sta a nord che ci punta all'interno delle nostre abitazioni all'interno del cervello e ci crea delle gravissime patologie voglio far presente che sulla fotografia si vede perfettamente i tre satelliti per la trigonometria il quarto satellite non si vede ma è quello che ci crea da nord gravi patologie dirette all'interno del cervello creando una tracciatura attraverso i parametri della sincronizzazione del quarto punto di analisi che viene immessa all'interno del nostro cervello attraverso il collegamento del punto 1 in realtà la spera 1 è il collegamento del punto dei centi nervosi del cervello che crea delle gravi patologie fisiche e psicologiche attraverso le armi ad energie dirette di clonazioni di frequenze immesse all'interno del elaboratore dati che vengono riprese all'interno degli ospedali su malati che vengono sottoposti all'elettroncefalografo o altri tipi di patologie che vengono analizzate attraverso l'elettroncefalografo che ricrea la clonazione delle loro frequenze e delle loro patologie e le rimettono sul nostro corpo voglio far presente durante la notte cercano di creare una sorta di risveglio dall'ora REM per far sì che l'ipnosi che viene indotta durante il giorno che crea la narcolessia fa sì che il nostro cervello stia sempre durante la notte in dormiveglia e incominciamo a perdere la concentrazione durante il giorno e incominciamo a fare dei strani incubi o delle strane allucinazioni audiovisive sia durante il giorno e durante i sogni come incubi visti in tridimensionali in 3D in alta qualità come situazioni di voci che vengono immesse all'interno del nostro cervello o di filmati che dovrebbero creare dei ricordi della nostra mente una cosa che ho notato in questi 13 anni dopo un anomalo fermo di carabinieri avvenuto il 10 febbraio del 2001 due giorni dopo ha incominciato ad avere gravissimi disturbi gravi patologie e mi era accorto che dopo due giorni del fermo il frigorifero durante la notte si accendeva sempre dalle 3 alle 6 di notte e io dicevo ma com'è possibile che questo frigorifero si accende dalle 3 alle 6 quando i frigoriferi di solito durante la notte che è più fresco un periodo invernale il frigorifero dovrebbe stare a temperatura e non si dovrebbe accendere così di frequente o rimanere acceso tutto questo tempo allora ho studiato come loro facevano questo tipo di sperimentazione di frequenze alternate all'interno dei centi nervosi del mio cervello durante la notte infatti ho notato che se stavo sul letto dalle 3 alle 6 avevo fortissimi incubi con bruciori all'interno del cervello e gravi patologie dovute ad ustioni continue e a scordinamento cerebrale dovute alle frequenze continue del cervello che venivano manipolate attraverso le frequenze alternate degli indotti e degli avvolgimenti dei motori dei frigoriferi che cosa succedeva? che praticamente quando io spengevo la corrente all'interno dell'appartamento il frigorifero si staccava e staccandosi il frigorifero diminuivano tutte le patologie allora ho detto riaccendo la corrente e provo a staccare il frigorifero e le patologie diminuivano totalmente e quindi mi spostavo in continuazione dal letto al divano dal divano al letto alla fine quando venivo sottoposto a trattamenti disumani di torture continue con sperimentazioni di elettroshock allucinazioni visive eccetera 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 ero costretto ad uscire da casa fatalità uscivo da casa andavo in mezzo a un prato a dormire al buio e non avevo più nessun tipo di patologia ma che strano arrivavo a casa mi metto sul letto torture, frequenze, manipolazioni questa fotografia che ho realizzato nel passare del tempo dovrebbe essere l'interfaccia che viene utilizzata da queste deviati da queste spie da questi sperimentatori che operano con le torture e le manipolazioni attraverso armi ad energia diretta satellitare sul nostro corpo attraverso delle diciamo mie premonizioni e attraverso la telepatia artificiale che veniva indotta all'interno del mio cervello o sensazioni extrasensoriali visive attraverso i parametri che venivano immessi durante la notte per la sincronizzazione del clone del mio cervello attraverso un elaboratore dati che doveva ricreare tutte le frequenze fisiologiche e poi riscoordinarle per creare le gravissime patologie e le gravissime dipendenze come possiamo vedere al centro c'è una sagoma questa sagoma è il nostro corpo in realtà è la fisiologica del nostro corpo come l'ho studiata questo sistema oppure questa tecnologia perché io dicevo ma come fanno scusa a puntarmi direttamente su una mano su un piede su un muscolo perché mi vedono attraverso un elettroencefalografo satellitare attraverso una scansione micrometrica effettuata da scanner che creano contrasto di frequenze di luce e che creano la scansione fisiologica o fisiognomica loro che cosa fanno? conoscono perfettamente tutte le frequenze del corpo perché sono esperti medici che operano in questi settori e analisti delle frequenze celebrali fisiologiche e corporee attraverso le gamme di beta alfa delta e cg perché le frequenze del cuore sono molto importanti relativa alle modifiche delle sensazioni che possono essere ricreate attraverso delle patologie simulate che immettono nel nostro corpo voglio ricordare che queste armi ad energie dirette satellitari se vengono utilizzate solo come delle sensazioni in stato ipnotico e narcoletico creano solo dei stati di suggestione dovuta all'ipnosi che viene immessa all'interno del nostro cervello e dalle sensazioni che vengono messe sul nostro corpo voglio ricordare alle persone alle vittime o le persone che vengono sottoposte a questi trattamenti se vi puntano un braccio voi non guardate il braccio non pensate al braccio ma pensate a un'altra cosa esterna e vedete se diminuisce il dolore perché se è una sensazione indotta il pensiero che voi date al vostro cervello fa sì che la frequenza o l'aumento delle gravi patologie aumentino sul punto che voi pensate per ricreare una soprapposizione di frequenze che creano le ustioni il caldo il freddo le vibrazioni e tante altre patologie che possono essere ricreate attraverso questo sistema ho creato nella prima parte della fotografia come si vede a sinistra dei colori perché giustamente loro quando puntano la persona come fanno a vedere le frequenze di contrasto per avere una frequenza di contrasto devono usare tipo un attack una risonanza magnetica di nuova generazione o un sistema che permette di interfacciare il corpo attraverso le frequenze immesse e dalle soprapposizioni di frequenze dirette attraverso i parametri fisiologici faccio un esempio se metto il colore giallo il colore verde e il colore blu posso creare una patologia ma loro lo sanno bene perché sono esperti in questi settori se loro mettono una frequenza rossa una frequenza bianca una frequenza grigia creano un altro tipo di patologia e allora per vedere che tipo di patologia mettono sul corpo come mi dissero tanti anni fa in telepatia artificiale prendendomi in giro hai il corpo come un arcobaleno allora io mi sono ricordato di queste cose che loro dicevano e io ho ricreato il sistema come loro lo potevano vedere attraverso i loro occhi ovviamente l'ECG vede e studia tutti i parametri nostri fisiologici perché ci tengono come in terapia intensiva quindi sanno i nostri limiti le nostre forze e le nostre debolezze perché prima di creare attacchi diretti alla manipolazione ipnotica e creare delle sensazioni di disturbo e di gravi patologie loro studiano tutte le nostre frequenze molte persone che mi hanno contattato vittime del controllo neurale mi hanno detto che sono andati a fare delle analisi l'ECG e l'elettrocardiogramma l'elettroencefalua eccetera eccetera allora che cosa è successo durante la notte dentro casa stavano sempre male come attacchi fortissimi al cuore mancanza di respiro e e via discorrendo quando il giorno sono andati al pronto soccorso gli hanno fatto l'elettroencefalografo tutto a posto l'elettrocardiogramma tutto a posto e hanno fatto le analisi risultava tutto perfetto e non avevano più disturbi quando sono andato io a fare l'elettroencefalogramma ho notato una cosa io sono ipersensibile alle frequenze di analisi dell'elettroencefalogramma e l'analista che mi stava facendo l'analisi ha dovuto modificare le frequenze perché gli impulsi elettrici che venivano immessi attraverso l'elettroencefalografo nel mio cervello per fare le varie analisi rivenivano riamplificati dal mio cervello stesso ed è per questo che loro mi utilizzano come un analizzatore umano di frequenze cerebrali dirette però tutto questo deve far capire che la tecnologia può servire per aiutare milioni di persone e per creare danni a milioni di persone un saluto amici siamo i fondatori del gruppo e del blog vittime del controllo neurale satellitare da giorni molte persone stanno contattando gli attivisti per un aiuto morale e psicologico e noi cerchiamo una soluzione più idonea alle torture che dobbiamo subire tutti i giorni e stiamo cercando fondi e attrezzature per diagnosi mediche come un elettroencefalografo misuratori di campo telecamere infrarossi e tanto altro per contatti donazioni e collaborazioni sia esterne che interne al gruppo oppure una semplice ospitalità delle vittime del controllo neurale satellitare in zona Roma contattatemi Emiliano Babilonia grazie il vostro aiuto salverà una vita da controllo neurale nazionale MK Ultra Italia abbiamo creato un gruppo su OVO che permetterà di entrare in videoconferenza multimediale tra noi vittime del controllo neurale per ulteriori informazioni contattatemi un saluto amici Emiliano Babilonia gruppo di OVO vittime del controllo neurale grazie a tutti Ah! 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 Ah!